buongiorno amici di nuova news 24 ne stiamo parlando da giorni sicuramente c'è qualcosa che non torna nello scandalo di capodanno spunta una nuova ipotesi oggi andrà in onda la puntata registrata ma durante la puntata sempre non sia stato spoilerato quello che è successo le sanzioni sono state date pesanti e qualcuno ha dovuto lasciare la scuola di amici intanto amici di nuova news 24 nel day time l'ultimo day time abbiamo visto alcuni che si sono lamentati in maniera chiara con questa cosa ho rovinato il mio sogno hanno detto questa è una macchia indelebile ci siamo rovinati con le nostre stesse mani ma cosa avranno combinato gli amici di Maria De Filippi Rudy Zeb infatti ha squalificato Tommy Dali mentre tutti gli altri ragazzi sono stati messi in sfida Valeria ha perso la sfida contro Cricca che è rientrato diciamo in maniera clamorosa nella scuola di amici e poi ci sono Maddalena e NDG Samu e Wera e Wax che ancora non si sa che cosa che cosa quale sarà la sorte del loro destino intanto amici di nuova news 24 sembrerebbe che spuntano nuove ipotesi molti sul web hanno ipotizzato il fatto della noce moscata ma sembrerebbe esserci qualcos'altro dietro oltre alla tesi che però è stata smontata dalla sorella di NDG di che cosa si tratta questa nuova ipotesi su Twitter c'è chi dice che gli alunni potrebbero essersi fatti dei tatuaggi fai da te Wax non aveva la mano tatuata prima e lo vediamo anche da questa foto che è stata proprio mandata nel daytime però non sappiamo in realtà che cosa che cosa hanno combinato queste sono solo ipotesi Wax non aveva la mano tatuata dicono in molti la cuccarina ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa altri invece pensano che ragazzi abbiano fatto una sorta di fuochi d'artificio fatti in casa mettendo a repentaglio la loro sicurezza in ogni caso domani scopriremo qualcosa in più sicuramente nel daytime e forse oggi Maria dirà qualcosa in puntata intanto vediamo proprio dalla foto Wax che ha la mano tatuata ma quello potrebbe essere stato fatto comunque anche in questi giorni di Natale amici di nuova news 24 diteci il vostro parere diteci se sapete qualcosa in più sulla storia di amici della noce moscata intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 iscriviti al canale